Bene, sempre dalla spiaggia di Pittolongu, mare meraviglioso, vicino ad Olbia, adesso la nostra ottima orietà, eccola qua, ci racconterà una storiella a tema che riguarda il mare, i bagni al mare. Bene, vai veloce. Se me la ricordo, non prometto niente a nessuno. Allora, c'è un uomo di colore. Dai, fai l'uomo di colore. Dopo. In pelle rossa faccio. Arrima in spiaggia? Sì. Vuole fare il bagno? È un uomo super dotato, messo bene. Sì. Bene, cosa succede? Adesso ti intendo. Succede che si sfoglia. Sì? E si tuffa in acqua. Aspetta, hai dimenticato già un dettaglio. Cosa gli manca? Cosa gli manca? Si sfoglia e... Si sfoglia. Sì. Il costume non ha in acqua. Eh, ma lo devi dire, questa cosa è importante. Sì, è vero, dai. Non aveva il costume. Non aveva il costume. Non aveva il costume. Sì. E poi un po' a rara. Un po' a rara, benissimo. Avanti, dai. Su, ti perdi in questi dettagli insignificanti. Ma, so, mi hai chiesto tu. Sì. E cosa succede? Sì. È la passa del tempo, intanto, e nel frattempo arrivano tre ragazze. Sì. E stanno là, si mettono proprio vicino ai suoi vestiti, e lui è in acqua, e si mettono a chiacchierare, stanno là, chiacchierano, 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 chiacchierano. E questo qua, volevi uscire perché era già un'ora che era in acqua. A freddo? No, perché erano arrivate le tre ragazze, e diceva, come faccio a uscire nudo, no? Insomma, basta del tempo, ore ancora. Insomma, si decide. Dice? Adesso? Basta, vado fuori, non prega niente. Basta, vado fuori, perché non ne posso più, era diventato, sai, la pelle tutta raglizzita. Ah, povero. No, no, ho detto basta. Mi nasconderò un po', colpisco le mani. Pazienza. E mi tirerò sui miei vestiti. E così fa, comincia a... Ah, così. Le ragazze vedono arrivare questo maccione, no? Eh, dai, uuuuh, nudo. Sì, nudo. Hanno tirato fuori proprio le orbite, gli occhi fuori dalle orbite, no? Sì, le orbite fuori degli occhi. Insomma, cosa succede? Succede che... E fa... Una fa... Non è... Ha detto... Uh, però... Che bigolo! E lui fa... No, è bigolo perché è freddo! Ha detto qualcosa di male. Ha detto qualcosa che non va. No, ma basta. Eh, deve fare la voce un po' da... È essere bigolo. Eh, ma io non so. È bigolo perché... Agua, fredda! È bigolo perché... No, vedi che non so raggiungere la voce. Ehi, non... Bene! Bene... Io direi... Insomma, si è capita, no? Carina! un pelo pietoso su ecco la barzelletta per fortuna l'acqua è bella e ci accontentiamo di questo saluti e baci